Sicuramente un target adeguato, sfidante ma non irraggiungibile. L'Europa ha una situazione energetica molto diversificata, se guardiamo il nord, il centro, il sud del continente. Tuttavia è ricco ancora di risorse rinnovabili che può essere utilizzate, di un campo eolico, idroelettrico, in parte minore, certamente solare e l'Italia è anche dotata del miglior potenziale geotermico disponibile. Cosa serve? Serve sicuramente un piano di investimento importante, gli operatori fanno la loro parte in questo, ma non basta solamente fissare dei target per raggiungerli. Bisogna poi capire quali sono le vere barriere che esistono nei vari contesti nazionali in termini di disponibilità di terreni, di processi di autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture e dei progetti e poi capire il ruolo della rete, delle reti sia nazionali che di interconnessione cross-border fra i vari paesi per consentire un miglior utilizzo dell'energia rinnovabile in funzione dei picchi di consumo e della diversificazione di disponibilità di risorsa che abbiamo fra centro, sud e nord Europa. Le prospettive sono fantastiche, non possiamo trovare altro aggettivo, perché la crescita demografica unita all'accesso all'energia che vogliamo certamente consentire ai nuovi abitanti del continente richiedono una enorme espansione del parco di generazione. Questa espansione non potrà che avvenire attraverso fonti rinnovabili per due motivi. Il primo è quello economico, oggi le fonti rinnovabili costano meno di qualunque altra fonte convenzionale e il secondo è di sostenibilità, perché consentire a 600 e più milioni di africani di cominciare a consumare energia all'inizio in modo quasi primordiale, poi via via in modo più intensivo creerebbe un impatto sul pianeta insostenibile se non fosse attraverso fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili hanno poi un altro grande vantaggio che permettono di modulare la dimensione di un investimento in funzione della situazione del consumo locale, quindi si può pensare a progetti di sviluppo in ambito mini grid, micro grid e poi ovviamente per creare impatto molto di più attraverso i progetti utility scale connessi alla rete. Se non lo faremo il numero di africani che nel 2030 non avrà accesso all'energia sarà superiore a quello di oggi, che è una cosa inaccettabile per chiunque può fare qualcosa. Adesso siamo alla vigilia di un grosso impegno per noi in Africa, perché avremo cantieri aperti in Marocco, in Zambia, in Etiopia e in Sudafrica e man mano che le condizioni macroeconomiche lo consentiranno, magari esploreremo anche i nuovi paesi del continente. Intanto noi siamo già il migliore, il primo, perché noi siamo il numero uno al mondo per i PPA corporate, i cosiddetti CNI. Perché ci piace questa cosa? Perché noi vogliamo che le rinnovabili siano sempre di più la scelta del consumatore, a livello industriale ma anche a livello retail, è meno la scelta del governo, quindi i target sono una cosa importante, ma in realtà molto più importanti sono la scelta dei consumatori. Questo è un grande trend che noi stiamo cogliendo da alcuni anni, da un paio d'anni almeno, l'obiettivo è di vendere almeno il 50% della nostra energia, non in cosetti tender regolati, quindi nell'ambiente regolato, ma a questi grandi off-takers che ci offrono merito di creditizio molto alto, quindi una stabilità importante nel rapporto di lungo termine, un acquisto a lungo termine e anche eventualmente un prezzo leggermente superiore a quello che in realtà riusciamo ad ottenere nell'ambiente regolato. Siamo anche uno dei primi operatori mondiali per clienti serviti e quindi questi due grandi asset, rinnovabili e clienti, sempre di più dovranno trovare un link comune per generare maggior valore per il gruppo. Il 2017 si è chiuso molto bene e il record più prestigioso per noi è quello di aver costruito 2,6 gigawatt di nuova capacità addizionale in 4-5 continenti, essendo il primo operatore anche in questa dimensione. È un record che abbiamo ormai alle nostre spalle perché nel 2018 siamo impegnati in costruire circa 3 e poi nel 2019 ne faremo ancora di più, quindi siamo una grossa macchina in accelerazione. C'è molto orgoglio in questo record, però noi siamo molto consapevoli del fatto che dobbiamo costruire questi impianti nei tempi e nei costi che sono stati stabiliti perché è lì che creiamo valore. La prima creazione di valore avviene proprio nella fase di costruzione. Abbiamo colleghi nei 5 continenti e in più di 15 paesi attivi contemporaneamente dagli Stati Uniti alla Spagna, l'Africa è stata ricordata prima, il Sud America per noi è molto importante e poi l'India e Australia che sono le due country più nuove che abbiamo. Lavoriamo in tutto il mondo con un unico però stile, lo stile del gruppo Enel, il D&L Green Power che è diventato negli anni il più grande operatore e di questo siamo orgogliosi. Però portiamo anche il senso della responsabilità di avere in dote più della metà del capitale da investire del gruppo e quindi dobbiamo farlo con il massimo scrupolo possibile, con la massima redditività possibile.